Buongiorno, siamo i ragazzi dell'Istituto Superiore Città di Luino e siamo oggi per Varesinando, in centro, nella Valigeria Ambrosetti, ad intervistare Paolo, il titolare. Ciao e grazie di essere qua. La tradizione della tua famiglia ti ha portato a scegliere questo lavoro, come hai deciso di portarlo avanti? Allora, tutto è iniziato tanti anni fa, quando ho finito la scuola e io volevo fare assolutamente il commesso, ho fatto una esperienza a Milano e dopo sono tornato a Varese nelle mura amiche della Valigeria Ambrosetti, nelle mura familiari della Valigeria Ambrosetti ed è stata da subito un'esperienza costruttiva, ancora adesso sto portando avanti con le mie idee. Sei un ragazzo molto social, quanto conta questa cosa oggi? Sul mercato del lavoro e del commercio conta tantissimo, perché ci vuole tanto impegno, tanto tempo da dedicare ai social, perché è come avere una seconda attività. Noi lo vediamo che seguiamo i clienti fisicamente in negozio, però li seguiamo anche online, sulle nostre pagine social e devo dire che è molto impegnativo, però è anche molto gratificante e ci auguriamo sempre lo sia anche dal punto di vista remunerativo. Un uomo può consigliare ad una donna l'acquisto di una borsa? Ma assolutamente sì, adesso non mi vanto di avere buon gusto, però devo dire che mi aiuta il fatto di essere da tanti anni in questo mondo, la scelta delle borse la faccio io insieme alle mie commesse e devo dire che le mie commesse mi danno anche una grossa mano, quindi è tutto un lavoro comunque di team. Il negozio si è circondato dalle donne, i pro e i contro? Pro tantissimi, perché io lavoro con un team al femminile e devo dire che sono bravissime, mi sollecitano tutti i giorni dal punto di vista lavorativo, le clienti il 90% sono donne perché il nostro course business è proprio la borsa al femminile e devo dire che è molto gratificante, io sono veramente contento di lavorare a contatto col pubblico femminile perché è un mondo complicato, complesso, però è un mondo che a me piace tanto e quindi diciamo che scegliere questo lavoro e lavorare in un negozio dove si vendono articoli prettamente da donna per un uomo e penso, anzi penso, mi ritengo una persona invidiata. E i contro? E i contro che non so mai cosa aspettarmi. Da Varese che vorresti? Ma parli con una persona che è innamorata di Varese, io infatti sono uno di quelli che mi ritengo Varesino più che Varesotto e la città di Varese per me è tanto quasi tutto. Mi piace tantissimo lavorare in questa piazza, mi piace tantissimo viverla, mi piacerebbe che fosse più a misura d'uomo, a misura di famiglia, quindi molto più pedonale e conseguentemente molto più a livello di commercio perché è noto che i centri storici pedonali portano molta più gente in città e quindi dal nostro punto di vista sono più remunerativi e io a questa città posso augurare solo il meglio e devo dire che tra l'altro il progetto Varesinando che ho portato avanti può essere un buon viatico per far sì che la città aumenti ancora in visibilità. Varese e il commercio. La nostra città è una piazza che vende? Questa è una domanda veramente complicata e fai bene a porla alla fine perché c'è tanto da dire, Varese è una città ostica dal punto di vista del commercio, infatti se un giovane mi chiedesse se ho consigli per aprire un negozio il mio primo consiglio sarebbe no, non farlo perché ci vuole tanta pazienza, tanta esperienza e soprattutto la piazza di Varese che è molto complicata, tanti ci additano come filo milanesi però non abbiamo il prodotto, non abbiamo il background milanese e quindi è veramente difficile fare commercio. In Valigieri Ambrosetti ci proviamo ma come penso che ci provino tutti gli altri negozianti di Varese è una bella sfida e ce la teniamo e la portiamo avanti, io ho la fortuna di lavorare in questo negozio da tanti anni, l'anno prossimo la Valigieri Ambrosetti compirà 90 anni quindi diciamo che di commercio ne mastichiamo abbastanza, proviamoci, al limite ci rivediamo fra altri 90 anni. Grazie. Grazie. Grazie.